E le cose, e il covid, e l'aumento di tamponi, ah il vaccino, il vaccino, ma il vaccino non funziona, è deludente, non è un po' deludente questo vaccino, non credete che sia un po' deludente, perché io credo che sia molto deludente, beh è deludente, perdonatemi, ma è deludente Tutto, vai, ecco, ecco, mi dico ancora gioia, una, una, così, gioia, che rottura di Non lo dica, si ammala perché secondo voi mi è venuto il mal di schiera, ma che è questi puntini, non lo dica, ti dottere, ti dottere Non è deludente, Rino, non è deludente? Dicci, Rino, dici, grande astrologo, è il virologo No, non sono positiva, cioè, oddio, non mi dite mai, eh, desti tempi Però, no, non sto vedendo nessuno, tra l'altro, perché devo fare le prove del musical e proprio non me lo posso permettere adesso di prendere il covid Cerco di Se è destino me lo prenderò Cerco al limite di essere il più attenta possibile, come sempre, come tutti stanno cercando di fare Oddio, mica tanto Hanno venduto questo vaccino, un po' come il, capito? Ti vaccini e puoi fare tutto Tanti hanno pensato così Mh, mh, mh